Sì, allontana il pallone dentro per Ciaralli con il mancino ed è tutto facile per la Virtus Stella Azzurra che passa in vantaggio con il capitano Daniele Ciaralli. La rincorsa di Piova, lui con il destro e salva sulla linea un difensore. Buona occasione qui per la Virtus Stella Azzurra che colpisce il palo contofilato, poi ancora Gerratana. Ripetutamente il pallone due, ancora una volta il pallone verso Galasso, va con il destro e questa volta c'è una buona parata da parte di Fogliani. Il pallone dentro verso Galasso arriva però la chiusura di Magrini non è stata imminente. Intanto ci prova Ciaralli e la risposta da parte del portiere Fogliani e Galasso quindi la rimessa con le mani dal fondo per la Vigor per Conti. Qui si sposta il pallone sul destro e lo esplode il numero 15 Ferrari. Buona occasione per la Vigor per Conti. Di Pascasio tenta il numero poi l'appoggia l'indietro e verso Galasso sposta il pallone va con il mancino ancora una volta Fogliani a dire di no. Di Pascasio numero su Martinelli se ne va benissimo Di Pascasio giocogliere il numero 6 poi pallone dentro per Pio Teofilato. Azione bellissima da parte della Virtus Stella Azzurra iniziata da una giocata del numero 6 di Pascasio e chiusa da Teofilato. 2 a 0 della Virtus Stella Azzurra. Martinelli fermato da Tufilato resiste però la carica del numero 9. Va fino in fondo con la punta e Rossi Merì che dice di no. Riparte per la Virtus Stella Azzurra. C'è Giarratana da quest'altra parte. Va con il destro. La deviazione anche da parte di Viselli ma il gol è del numero 9 della Virtus Stella Azzurra. Nicolò Giarratana dalla pressione a parte del numero 17. Pallone dentro per Mizzischia. Pallone per Tanzi e c'è il 4 a 0. Questa volta sì della Virtus Stella Azzurra ha segnato Daniele Tanzi 4 a 0 per i padroni in casa. Si muove ora però il numero 6 di Pascasio servito da Ceralli. Pallone dentro per Mizzischia con la punta ma arriva ora il triplice fischio da parte del direttore di gara. La Virtus Stella Azzurra passa agli ottavi. Batte 4 a 0 la Vigor per Conti di questa Coppa Lazio. Abbiamo dato tutto. Eravamo under 21 con due appunto della prima squadra e la C2. Abbiamo dato il massimo. Abbiamo trovato una bella squadra. Sapevamo già che comunque era difficile ribaltare il risultato e nulla. Purtroppo diciamo che il risultato dell'andata di 5 a 2 ci ha fatto preparare la partita un po' troppo in modo leggero. Già sentivamo la qualificazione in tasca e la prestazione è stata di basso livello. Comunque è importante. Comunque la difesa è sempre bene. Zero col subiti, quattro fatti, è andata 5 a 2. Rammarico per la prestazione però.